Una rosa per Santa Rosalia. Una rosa per Palermo. Una rosa luminosa composta da migliaia di candele che hanno brillato la sera scorsa sul Sagrato della Cattedrale. A pochi giorni dal festino di Santa Rosalia è stato questo l'omaggio della città alla Santuzza. Il festino di Santa Rosalia è la più importante festa religiosa del Mediterraneo. Con qualche giorno di anticipo sul Sagrato della Cattedrale è stata realizzata una rosa luminosa composta da oltre 5.000 candele. È stata realizzata insieme dai tanti palermitani che sono accorsi di fronte alla cattedrale e dai turisti presenti in massa in questi giorni in città. L'opera è stata pensata e progettata dallo stilista e artista Angelo Cruciani. Si vede che è un destino incredibile. È quello che mi riporta costantemente in Sicilia per poter interagire con questa terra e continuare a creare qualcosa di speciale. È un onore essere al centro del Mediterraneo, nell'isola più bella del mondo, con questa energia fantastica e poter contribuire nel mio piccolo ad omaggiare una santa, la fede e la speranza. Tutto inaspettato, così come l'aiuto spontaneo dei bambini che vedono costruire una rosa, se ne sentono parte, prendono i piattini, prendono le candele e la costruiscono con noi senza nessun tipo di indicazione. Quindi a questo punto ci affidiamo alla magia. Quando il mosaico è stato completato, tutte le candele sono state accese, dando vita così a un rito collettivo di devozione, che è illuminato la sera palermitana.